Passate le ultime elezioni amministrative, sono diverse le segnalazioni arrivate all'ufficio della consigliera di parità della provincia di Teramo, in merito alla composizione delle giunte comunali di Basciano, Bisenti, Cortino e Pietracamela, in cui nessuna donna è stata nominata assessore. Una condizione su cui la consigliera Monica Brandiferri, dopo aver accertato che effettivamente non sono stati rispettati i principi di parità di genere, ha scritto i quattro sindaci della provincia di Teramo per chiedere interventi in merito. Ho ritenuto opportuno, visto che c'erano state delle segnalazioni, di intervenire con una mia lettera, appunto perché rientra nelle mie funzioni. Ho invitato i sindaci a far sì che nella giunta sia rappresentata una donna, quanto meno, visto che la normativa lo dice chiaramente. Quindi si è trattato semplicemente di ricordare ai sindaci neoeletti che c'è una normativa che tutela e che dice chiaramente che nelle giunte ci devono essere le donne, che noi dobbiamo essere rappresentate. Io, lo ripeto ancora, mi dispiace dover dire che ci deve essere una legge. Però è ancora più grave quando nel consiglio comunale di questi comuni una donna era presente. Io posso capire che non si elegge una donna quando comunque non ci sono, perché non si sono candidate, perché non sono state votate. In questo caso invece no, perché in tutti e quattro i comuni donne in consiglio ce n'erano. Io sono fiduciosa perché ho avuto modo comunque di sentirli, mi sono sentita con tutti e quindi mi hanno tutti quanti rassicurata che avrebbero provveduto in tal senso. Quindi aspettiamo insomma le loro motivazioni, mi dovranno sicuramente rispondere e vedremo che cosa mi dicono e perché comunque le donne non sono state inserite. Io capisco anche che comunque si tratta di comuni montani soprattutto, dove comunque donne che si vogliono impegnare forse politicamente non ce ne sono. Però ecco, mi ripeto, qui in consiglio c'erano donne. Quindi vediamo, vediamo, aspettiamo e che cosa mi dicono.